Ehi, eh? Chi sono io? Lo zio? No, lo zio merda no! Perché? Un bacino me lo dai? Me lo dai un bacino? Un bacino allo? Allo zio merda! Sotto il bosco è stato, non credo, ancora accorto a me la... Comunque quanto è bello suonare per i tuoi amici, per i figli dei tuoi amici, oggi è stato veramente figo, bello! Perché quando provi emozioni è sempre bello, a prescindere da tutto, quindi ringrazio tutti i miei amici, ringrazio voi anche che ci siete sempre E da domani inizia una bella settimana, lo voglio bene i coccodrilli, eh? Mi raccomando, fate sempre le cose col cuore perché è la miglior cosa Datemi retto, poi direte questo è un coglione, no, alla lunga paga sempre, notte